Da sempre Elastic Interface adotta tecnologia all'avanguardia, distinguendosi per la sua capacità di innovare il settore delle protezioni da ciclismo. Tutto il nostro lavoro gravita attorno alla performance del ciclista. Sviluppiamo prodotti che garantiscono supporto prolungato, stabilità in sella, traspirabilità. Anche oggi ci riconfermiamo come una delle aziende fra le più innovative di questo settore. In passato abbiamo introdotto il fondello elastico, rivoluzionando un mondo di fondelli realizzati in pelle di camoscio. Oggi cambiamo nuovamente le regole del gioco. Nella ricerca e sviluppo di soluzioni sempre più avanzate abbiamo usato la stampa 3D con un materiale di origine vegetale e una produzione a scarto zero per ingegnerizzare un inserto che va oltre i nostri stessi standard di qualità. Una protezione di cui controlliamo la struttura, le caratteristiche e la performance. Il risultato finale, una volta testato su strada, ha rivelato la sua natura rivoluzionaria. Abbiamo creato la terza dimensione del comfort. Per noi, performance is an attitude non è solo uno slogan, è il nostro DNA. Grazie a tutti.